Ciao e bentornati sul canale! Bentornati sul canale in tema natalizio Goffi! Allora, spieghiamo prima rapidamente di che cosa si tratta Conad mi pare superando i 15 euro di spesa aggiungendo 1,50 euro vi danno una bustina di questi e i 50 centesimi vanno in beneficenza agli ospedali pediatrici Allora, so che sono Goffi so che sono natalizi ma non sappiamo come sono Uff, c'è una checklist, vai, la grande Allora, Santa Goffi, non vedo niente Vabbè, lo voglio Poi la strega, non mi piace La renna, mi piace Non mi piace La elfa, non mi piace Io voglio la elfa, l'elfo L'elfo sì Lo schiaccianoci, mi piace Mi piace, questo lo voglio Molto, il buon vino, mi piace La babbu natala mi piace L'angio letto proprio no Elvis no Dai, diciamolo Elvis Beh sì, un po' Elvis Elvis, Elvis Cufo Perché i Goffi sono belli Ricordiamoci questo, vai Cosa abbiamo trovato? Perfetto, uno di quelli che non volevamo Ma almeno vediamo come sono fatti Wow, wow, wow Sai che non pensavo fossero fatti così? È di plastica tipo liscia Ma cosa ha, cosa c'ha qua? Forse per me di inserire, c'è scritto qualcosa? Ha un taglio sopra Cioè che secondo me Vedremo il secondo se è riapribile No, forse si può Non lo so Abbiamo notato questo taglio qui Adesso vediamo il prossimo se ce l'ha E cerchiamo di capire Se è una cosa di fabbricazione Fatta forse Intanto mi abbasso Se no non si vede in nulla La strega La strega E anche lei ha questa feritoia Va bene E abbiamo trovato due Sto di te possono essere dei mini dal velanaglio? E ma poi come li apri? Di spacchi Prova a guardare quelli E li spacchi Sono di plastica Uno può mettersi dei bigliettini Però poi non li recupera A meno che non li lascia leggermente fuori Ma sai che però Devo dire Sono carini Molto carini No? Sì E il problema di queste cose qui E che non puoi tastarle Perché non puoi sceglierle Però prendete una cosa molto carina Alcuni di questi potrebbero andare a finire sull'albero Altri potete anche aggiungerle un regalo O all'esterno E comunque fate qualcosa di buono Anche perché va in beneficenza Quindi metterò in descrizione il link della Corand Dove parlano di queste Così tutte le varie informazioni Magari io vi ho dato non perfettamente Potete andarle a vedere E sperando che la prossima volta ci vada meglio, no? Sì Tra questi due quale preferisci? Queste due Che poi è la Befana Siamo in periodo natalizio Se siamo in periodo natalizio Arriverà il periodo natalizio Quindi in Befana Ma la Befana viene prima o dopo Natale? Dopo Natale 6 gennaio Dopo Capodanno Eh, fa niente Vi ricordo di iscrivervi al canale Mettere un like, condividere, commentare Scacciare la campanella Per essere dati su tutti i video Che bello Siamo novembre, dicembre Esatto Ma non so se questo video lo caricherò Sì, lo carico a novembre Va bene E come sempre? Noi, vi sentiamo e ci vediamo Al prossimo video